Siamo alla presentazione della Nikon dei nuovi modelli, questa è l'ammiraglia, l'abbiamo già vista qualche periodo fa, la nuova D4, un gioiello straordinario, qui in questo caso con anche montato il suo microfono. Bene, continuiamo a vedere qualche modello, questa è la nuova P510, modello di punta della gamma 2PX serie P, macchina con 42 ingrandimenti, dotata di monitor vasculante, mirino elettronico e per la prima volta la stabilizzazione è anche sull'ottica nella gamma 4PX.